Un benvenuto a tutti voi in questo nuovo video targato Spinblog. Questa volta vi mostriamo su iPhone, iPad e Mac il nuovo browser Volunia. Volunia è un progetto tutto italiano che mira a portare un motore di ricerca completamente innovativo sui vostri dispositivi fissi o mobili. Noi abbiamo già avuto modo di provarlo e di seguito vi mostriamo una veloce anteprima. Questa è l'interfaccia principale di Volunia che, come vedete, è caratterizzata subito da una barra superiore. In questa barra superiore troviamo diverse impostazioni, tra cui i contatti. Cosa sono questi contatti? Sono le icone delle persone che stanno visualizzando questo stesso sito tramite Volunia. Attualmente sulla pagina principale di Volunia troviamo 133 persone. Se digitiamo una qualsiasi parola nel motore di ricerca verranno visualizzati diversi risultati assieme a due icone specifiche sulla sinistra. Apriamo ad esempio iPad Italia. E come vedete la particolarità di questo blog è quella di portare sempre con sé la barra superiore. Questo motore di ricerca infatti non ci abbandona dopo aver trovato il sito di nostro interesse, ma come vedete si porta sempre dietro questa barra. La navigazione è fluida come fosse eseguita normalmente da un qualsiasi browser, con la differenza che in questo caso ci sono delle funzioni aggiuntive. Funzioni aggiuntive come mappa, che è una interessantissima funzione che permette di visualizzare una sorta di mappa tridimensionale o bidimensionale, se si preferisce, in cui muoversi all'interno delle sezioni del sito. Questo per ridurre il rischio di perdersi un po' dopo essersi collegati al portale che si stava cercando. Abbiamo premuto su una di queste categorie e infatti ci ha rimandato nell'apposita sezione del nostro sito. Siamo tornati alla Home. E da qui ad esempio c'è un'altra caratteristica molto interessante di Volunia che permette di visualizzare i video e le immagini di ogni pagina, contestualizzandole in un menu tutto nuovo. Come vedete nella Home ha ripreso queste immagini, mentre se si visitano ovviamente altri portali, questa stessa funzione, questa stessa schermata raccoglierà le immagini presenti appunto in questi altri siti. La funzione Media permette ovviamente anche di salvare le immagini che si sono visualizzate in questo modo. Lo si può fare tramite il pulsante Download o anche tramite semplice Drag & Drop. Molto più semplice per scegliere appunto le immagini di nostro interesse e archiviarle. Le altre funzioni di Volunia includono un'esperienza social molto ampliata, quindi oltre alla ricerca molto professionale, troviamo anche una ricerca degli amici, una ricerca sociale, che ci permette intanto di visualizzare quali contatti Volunia, quali persone registrate a Volunia stanno visitando un particolare sito. E premendo sulla scritta Messaggi potremo anche leggere tutti i messaggi pubblicati da quest'ultima persona o anche le nostre conversazioni, perché in realtà Volunia funziona anche come un vero e proprio social network in aggiunta diciamo al discorso principale che è quello del motore di ricerca. Proviamo un'altra ricerca scrivendo iPhoneItalia.com e come vedete il sito, il browser ci ha indirizzati subito alla nostra home page. Non si è passati quindi da una schermata dei risultati, come invece accade con gli altri motori di ricerca, ma ci ha subito indirizzato verso il sito. Proviamo ancora la funzione mappa, magari adesso facciamo una modifica e la visualizziamo anche nella sua versione meno ricca, diciamo, dal punto di vista grafico. È questa qui. E in questo modo visualizzeremo le sezioni del sito in griglie. Come vedete su iPhoneItalia sono state suddivise diverse griglie, ne abbiamo premuto su 7 notizie per 7 giorni ed è stata aperta proprio questa sezione del sito con tutti gli articoli specifici per questa appunto categoria. La stessa cosa vale ovviamente se si preme su un'altra categoria, che sia giochi, che sia sidia, insomma un po' come vogliamo. Il browser, il motore di ricerca, si integra a perfezione con qualsiasi sito. Adesso, vista la versione per Mac, per computer fissi, ci sposteremo su iPad e iPhone per guardare un po' come funziona Volunia anche su questi dispositivi, perché ricordiamo, Volunia è già compatibile con iPhone e iPad, anche se non in versione applicazione, quindi solo tramite web app. Appunto, vi diamo appuntamento alla seconda parte di questo video in cui analizzeremo la versione per iPhone e iPad. Eccoci qui, siamo con il nostro iPad 2, sul quale a breve testeremo Volunia nella sua versione mobile. Come vi dicevo, Volunia ha già presente una versione mobile, che è questa qui, e questa versione riprende in tutto e per tutto le caratteristiche della versione desktop. Abbiamo questi pulsanti, che sono praticamente gli stessi, la barra di ricerca, e vedrete appunto che dopo aver digitato una parola chiave per la ricerca, la barra superiore resterà sempre con noi. I risultati verranno anche in questo caso visualizzati in colonna, con i classici pulsantini per la mappa e per le persone. Premiamo ad esempio quello della mappa. Però su mobile non è presente la versione mappa in 3D, ma solo quella per categorie. Proviamo ad aprirne una. ed eccoci qua nella categoria curiosità, esattamente come tramite desktop. In questo caso però, quando siamo da mobile, la barra si restringe notevolmente durante la visualizzazione dei siti, mentre resta di dimensioni abbastanza importanti quando siamo su volunia.com. Proviamo adesso la sezione persone, che come potete vedere non è ancora molto precisa. Ci abbiamo provato per diverse volte a visualizzarla da iPad, ma niente da fare. Per ora è sicuramente un aspetto di volunia mobile che va migliorato. Passando invece alla versione di volunia per iPhone, c'è da dire che questa è ancora piuttosto limitata. Limitata perché? Perché nonostante sia molto simile all'interfaccia grafica con gli stessi pulsanti e con il motore di ricerca in sé. In questo caso sicuramente gli sviluppatori dovranno migliorare il programma, la versione internet, la web app di Volunia, perché è ancora molto acerba. In questa sezione abbiamo premuto sui messaggi del sito iPhone Italia. possiamo vedere appunto chi dei nostri utenti ha commentato ed eventualmente lasciare anche noi un commento. Premendo invece sul primo pulsante abbiamo accesso alla mappa di Volunia del sito iPhone Italia, sempre con le solite caratteristiche categorie. qui abbiamo ad esempio Apple TV, applicazioni App Store, esattamente le stesse categorie che trovate sul nostro blog. Premendo su Mondo Apple, Volunia ci indirizzerà direttamente nella categoria Mondo Apple di iPhone Italia. Ma come vi dicevo, in questo caso abbiamo completamente perso la barra superiore, che è un po' la caratteristica di Volunia, di questo motore di ricerca. e quindi l'utilità di usarlo su iPhone rispetto a Google o a qualsiasi altro motore diventa sicuramente inferiore. Per quanto riguarda invece le persone, qui possiamo vedere appunto quante persone hanno letto le nostre pagine, quante persone sono collegate su un determinato sito e così via. Sicuramente Volunia è un progetto interessante, un progetto di cui tutti noi dobbiamo essere molto fieri poiché sviluppato in Italia, ma ovviamente deve ancora migliorare sotto diversi aspetti. Aspettiamo il rilascio della versione pubblica per poter dare un giudizio più completo su questo motore di ricerca. Anche per oggi è tutto, Andrea Cervone per iPhone Italia, iPad Italia e slide2mac.com. Alla prossima! Ciao! Ciao!